Stanno a passare vicino le orecchie. Accendo? Accendo, accendo. Te, te, guarda quanti. Abbasso, basso, basso. Abbasso. Ciao ragazzacci! Sì, oggi si va a Val d'Orbia, dal mio carissimo, anzi sto andando a prendere il mio carissimo amico Mirko, che vedrete molto spesso in questa serie dedicata al mondo sotterraneo, perché andremo in un luogo fantastico, le cave, le vecchie cave di Marna, di Val d'Orbia, da dove veniva estratta la Marna, per fare il cemento. Però a parte questo, a parte la parte storica, che se vuoi, a voi, a Mirko, ve la racconterà molto meglio di me, andremo a fare delle foto, degli scatti molto suggestivi. Mirko è una guida escursionistica, speleologica, guida spele, gran professionista, vi potrà accompagnare in forra, grotta, dove volete. E oggi andiamo a prendere del freschetto, porterò la mia attrezzatura con me, sotto terra, sia la 5T Mark IV, con il 16-35, per la fotografia, e la Panasonic Lumix FZ300, montata in un setup che potete vedere sul mio profilo Instagram o sulla mia pagina Facebook, trovate i link in descrizione, montata in un setup un po' strano ma comodo, insieme ad una lampada professionale della LED Lancer, che arriva fino a 2000 lumen. Oggi, oltre che fotografia, staremo anche un po' con le mani sul cuore, dato che il posto dove andiamo non è, come si dice, un po' avverso, è qualcosa di avventuroso, ma come sarà, saranno tutti i video legati a questa serie del canale. Logico, non saranno video molto frequenti perché ci vuole tempo, serve tempo, serve tanta fatica, e anche l'attrezzatura viene messa alla prova, considerate che stiamo andando a fotografare e riprendere i luoghi dove regna il buio, e qualsiasi mossa sbagliata si paga. Quindi ecco, adesso vado a prendere il mio carissimo amico Mirko, e andiamo a farci questo bel giretto sottoterra. Ciao ragazzacci, a dopo! giretto sottoterra. Giretto sottoterra. Di là? Diccio. Diccio. ma perché toccava passare di là guarda eccolo una bella sudata ma è sonora non mi ne girai intorno di qui la ricerca dell'ingresso è di qui sopra non è di qui sopra arrivati adesso faccio la roba e faccio vedere l'ingresso vedete l'ingresso è questo qui e questo è Mirko adesso ci prepariamo ciao ciao il famoso tucca il famoso tucca che so il culo che non ci passano i spigli qui quello lassù è da dove siamo entrati da dove siamo scesi e ecco l'ingresso raggiù c'è Mirko e adesso andiamo a fare qualche foto senza battere la testa ci addentriamo ma che cacate di chi è visti ce l'ho visto ah ce l'hai proprio visti ma anche ci sono un sacco di costelle non ne troviamo fatto le foto no ma qui non c'è la lì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'era lo zucchetto sopra, ma se ci guardi adesso non c'è più né il zucchetto né sopra. Beh, meglio che succede quando ci siamo noi gli altri. Ah, è laggiù. Comunque anche qui sta roba c'è. Mi sembra rimasto più o meno un tanto com'è. No, non c'è più. No, non c'è più. No, non c'è più. Non c'è più. No, non c'è più. No, non c'è più. No, non c'è più. In questi casi l'importante è arrivare con l'obiettivo montato. ci siamo ricordati di questa cosa. No, non c'è più. 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 Adesso. Per questo scatto Abbiamo messo una luce qua Una luce raggiù la vedete Illumina questa parte di parete Poi Non so se non mi ammazzo Una luce qua Un mirco qua La macchina qua E da qua E prendiamo tutta questa scena Qui così Questa è tutta la scena che andrà ripresa Forse Sì È meglio Ora ci metti a pista roba Io scappo fuori Ma ci sa Che so Abbassate Non so Non so Proprio fuori fuori Ciao ragazzacci Seguitemi In descrizione trovate Sito internet Pagina facebook Canale telegram Instagram Tutto Condividete E ciao ciao Al prossimo episodio Ciao